Siamo oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Somma Vesuviana alla conferenza stampa organizzata dall'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale per la Pasqua a quattro zampe, un rapporto d'amore. Quindi la proposta di legge che ho presentato in Consiglio regionale, siamo ormai in dirittura di arrivo, che parla degli animali, degli animali d'affezione che hanno una grande importanza per le persone, per il ruolo che svolgo. A differenza del passato noi saremmo in grado in regione Campania di seguire dalla nascita fino al decesso l'animale con un ruolo importante questa volta da parte delle Asla che faranno delle attività di primo e secondo livello di trattamento verso gli animali che prima non erano previsti e che saranno ora previsti proprio per la tutela e la cura degli animali. è che prima di essere immessi poi nei canili dove verranno anche là registrati e daremo importanza al registro tumore animali che si coordinerà con il registro tumore delle persone che già funzionano in regione Campania per vedere la relazione tra questa malattia, tra il mondo animale e il mondo degli umani. Considerate che gli animali sono come dei sensori sul territorio. In sostanza sarà una legge innovativa che porterà la regione Campania a fare un passo avanti nei confronti delle altre regioni e terrà in giusta considerazione gli animali d'affezione e questo ruolo importante che questo svolgono nelle famiglie.